Il problema dell'accertamento dell'età dei minori non accompagnati si pone quando non si hanno dei documenti di riferimento, dei documenti di identificazione che possono essere utilizzati per capire quanti anni ha un ragazzo, una persona e sorge sia a fronte di ragazzi che si dichiarino minori e per i quali c'è il sospetto che siano maggiorenni, si tratta della maggioranza dei casi, sia per ragazzi che si dichiarino maggiorenni e c'è il sospetto che siano minorenni. Questo caso ricorre meno frequentemente ma spesso per le vittime della tratta. La rilevanza della questione si pone in vari ambiti, in ambito processuale e penale perché si può trattare di persone che hanno commesso reati, che sono sottoposte ad un procedimento penale e capire se sono maggiorenni o minorenni diventa fondamentale per verificare quali garanzie siano a loro applicabili e quindi il processo penale minorile che ne prevede molte di più, prevede molti vantaggi per i minori. E da un punto di vista amministrativo essere minori vuol dire non poter essere espulsi e avere diritto ad un permesso di soggiorno per minore età. Documenti di riferimento che siano validi ai fini dell'età sono sicuramente i documenti di identificazione che sono quelli muniti di fotografia sul sopporto cartaceo, magnetico, rilasciati da autorità pubbliche, statali, italiane o straniere, che hanno come finalità fondamentale quella di provare l'identità personale del titolare, ma ci sono anche i cosiddetti documenti di riconoscimento che non hanno quella come finalità principale ma sono dei documenti comunque muniti di fotografia, comunque rilasciati da autorità pubbliche e quelli possono essere comunque utilizzati a questo scopo e in ogni caso prevalgono su quello che è un eventuale accertamento effettuato in altra maniera dell'età della persona. Quando non abbiamo documenti di nessun tipo e perché possono avere un qualche valore devono essere comunque muniti di fotografia, questo è bene dirlo, un certificato di nascita senza nulla non viene preso in considerazione, almeno non ultimamente dopo quanto è accaduto con l'emergenza Nord Africa in cui erano stati prodotti moltissimi certificati ma alla fine molti di questi si erano verificati non genuini, erano risultati non genuini, quando non abbiamo niente ecco che scatta il problema di come accertare e di come verificare l'età di una persona. Essenzialmente si dovrebbe accertare o cercare di verificare quella che è l'età biologica e da questa dedurre l'età anagrafica. Non esiste allo Stato nessun tipo di accertamento che dia esiti certi, sicuri, univoci, non esiste e questo è il motivo per cui ci sono paesi nell'Unione Europea che non prevedono nemmeno la possibilità di effettuare degli accertamenti di tipo medico, degli esami medici, ad esempio l'Irlanda, la Grecia. Altri paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna invece prevedono in via prevalente la possibilità di avvalersi di esami di tipo medico, altri prevedono accanto all'esame medico il colloquio individuale per capire al di là di quello che è l'aspetto fisico la maturità affettiva, la maturità relazionale della persona interessata e questo avviene ad esempio in Gran Bretagna, in Francia e in Germania ed in Gran Bretagna, lo sottolineo, è vietato l'utilizzo dell'esame radiografico nell'ambito dei vari tipi di test utilizzati per l'accertamento dell'età. Da un punto di vista normativo noi non abbiamo una disciplina che sia organica della materia, abbiamo diverse norme sparpagliate qua e là che disciplinano a seconda dei temi, delle materie, la questione, che sono comunque rilevanti perché ci forniscono un quadro di riferimento quantomeno dal punto di vista dei principi utilizzabili. Il punto di partenza è l'articolo 8 del DPR 448 del 1988, cioè la disciplina del processo penale minorile, che prevede che nel caso ci sia dubbio sull'età occorre effettuare una perizia e se al termine della perizia, all'esito della perizia ancora sussistono dubbi, la persona va considerata a tutti gli effetti minorenne. Lo stesso principio vale anche in ambito amministrativo per quello che riguarda la disciplina della posizione delle persone sul territorio nazionale, in base anche a una circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, che tra l'altro sottolinea come sia assolutamente importante che l'accertamento dell'età venga effettuato in centri pubblici specializzati muniti di reparti pediatrici e come debba essere sempre tutelata la dignità della persona, l'integrità fisica di chi viene sottoposto a questo tipo di esame. Vi sono ancora ad esempio la direttiva del 2013 numero 32 della UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che riguarda le procedure applicabili in tema di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Tra le varie norme che prevede c'è anche un riferimento ai minori stranieri non accompagnati, alle relative garanzie, al fatto che gli stati membri possano avvalersi di visite mediche per l'accertamento dell'età e si sottolinea anche in questo caso il rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile che deve essere impiegato, effettuato da professionisti del settore. Cito anche una risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2013 perché si dice espressamente qui che si fa riferimento all'inadeguatezza di molti dei sistemi utilizzati dagli stati membri e ai grandi margini di errore che sono insiti soprattutto nei metodi impiegati per la verifica della maturità delle ossa e per la mineralizzazione di alimenti dentari. Ancora cito questo articolo perché effettivamente è molto importante, l'articolo 4 del decreto legislativo 24 2014 che riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta. Qui vengono individuati specificamente dei principi molto importanti, il fatto ad esempio che dovrebbe essere impiegato un accertamento di tipo multidisciplinare e che bisognerebbe avere comunque riguardo le specificità relative all'origine etnica-culturale della persona interessata. Infine, non si tratta di una vera e propria fonte normativa, ma è molto importante per l'autorità che lo ha elaborato e per il fatto che si sta diffondendo in maniera piuttosto consistente la sua conoscenza. Si tratta del cosiddetto protocollo Ascone, un protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'approccio multidimensionale che è stato elaborato nel giugno del 2009 da un gruppo tecnico interistituzionale istituito presso il Ministero della Salute, sottoposto poi alla valutazione del Consiglio Superiore di Sanità. Si tratta di un protocollo che contiene principi molto importanti che non è stato adottato formalmente, quindi per questo non diventa vincolante per le autorità sanitarie, in generale per chi procede ad un accertamento, però certamente è un punto di riferimento importante. Stabilisce ad esempio che deve essere sempre indicato in un referto medico il margine di errore, quindi nel momento in cui io faccio una verifica, per esempio dell'età ossea, devo indicare entro quale range l'età possibile della persona potrebbe essere ricompreso, dovrebbe essere obbligatorio. Individua anche in questo caso nel pediatra il medico qualificato ad occuparsi della questione. Individua nel approccio multidisciplinare quello da impiegare, cioè non soltanto un tipo di esami, ma più esami proprio perché l'esito finale sia il più attendibile possibile. Individua quale metodo di analisi radiologica che sarebbe da utilizzare perché è più affidabile il cosiddetto Turner Whitehouse 3, su cui tornerò tra poco. E diciamo appunto questi sono i dati fondamentali. Aggiungo poi ancora il riferimento alla variabilità legata all'etnia di provenienza, quindi all'importanza che riveste quest'ulteriore aspetto nella valutazione dei risultati del test. Quindi facendo un riassunto di tutto quanto detto, e non ho citato poi rapporti molto importanti, ad esempio uno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del marzo 2014, proprio sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati in Italia. Però quello che si può riassumere delle direttive che vengono dati un po' a livello di fonti normative, letteratura medica, dottrina, stanno racchiusi in questi sette punti. Il primo, la mancanza di metodi scientifici in grado di determinare con certezza l'età cronologica, anagrafica, a partire dall'età biologica. Il secondo, il rispetto della dignità della persona, dell'integrità fisica della persona che si deve esaminare e l'utilizzo di metodi che siano il meno invasivi possibile. Il pediatra, quale figura di riferimento? 4, il consenso informato dell'interessato, la presenza di un mediatore, il fatto che comunque gli venga spiegato il tipo di accertamento che si fa in una lingua che sia lui nota. Sottolineo che però il consenso non è condizione necessaria per l'effettuamento dell'accertamento, che può avvenire comunque anche se la persona si rifiuta. Quinto, l'indicazione nel referto del range di errore, del margine di errore, questo è fondamentale. Poi, la valutazione delle specificità legate all'origine etnica e culturale ed infine la presunzione di minore età è in caso di dubbio. Nella prassi cosa succede? Possiamo parlare dell'ambito torinese, nel senso che proprio perché non ci sono linee guida che vengano univocamente accettate, che siano vincolanti, ogni ospedale fa un po' quello che ritiene. All'interno dello stesso ospedale ogni medico può refertare in modo diverso rispetto all'altro e quindi bisogna fare una valutazione di media di quello che si osserva. In linea generale possiamo dire che di questi principi che ho indicato, nella maggior parte dei casi l'accertamento non viene effettuato da un pediatra, ma da un radiologo o da un medico legale. In secondo luogo, difficilmente alla persona viene spiegato in maniera che possa comprendere in una lingua lui nota quello che si sta facendo. Il margine di errore quasi mai viene indicato all'interno del referto. Io personalmente non ne ho mai visti, con un'indicazione del margine di errore. E poi quasi mai vengono valutate le specificità proprio del paese di origine. Esistono dei protocolli, in qualche modo degli accordi tra la procura ordinaria e il CTO, per esempio, un po' di tempo fa. Attualmente esiste quello tra la procura minorile, il comune di Torino, Città della Salute e As Torino 2. Per intenderci, gli ospedali considerati sono il CTO e il San Giovanni Bosco. Non entro nel dettaglio di quello che dicono, ma rispetto a quello che appena ho detto e quindi al fatto che non individuino tutti i principi che ho sopra menzionato, questo è un dato che viene confermato. Il metodo principale per l'accentamento dell'età qui a Torino è sicuramente l'esame del polso, l'esame radiologico del polso e della mano. Come si fa? I metodi impiegabili sono anche qui diversi. I più importanti sono Grolicie Pile, Turner White House 2 e Turner White House 3. Tutti partono da un confronto tra quello che è la lastra del soggetto interessato ed un modello di riferimento, che è diverso per ciascuno dei metodi che ho menzionato. Il confronto potrebbe far emergere qual è il livello di maturazione della persona sottoposta al test. Molto sinteticamente, il Grolicie Pile, che è in assoluto il più usato nel pronto soccorso del CTO e comunque di altri ospedali in Torino, si basa come parametri di riferimento test effettuati su bambini e adolescenti di Cleveland in Ohio negli Stati Uniti nel periodo a cavallo tra le due guerre. Questo vuol dire che un cittadino magrebino o un afgano o di qualunque altra azione dell'Asia o dell'Africa sottoposto a quell'accertamento avrebbe come termine di confronto un adolescente di quell'epoca e di quella zona. Si può ben capire che forse non si tratta, come dire, questo crea molti dubbi poi sulla validità, sull'affidabilità dei risultati di quel tipo di accertamento. Ribadendo che nessuno di questi metodi dà certezze, però il protocollo Ascone individua nel Turner White House 3 invece è quello un po' più affidabile. Perché? Perché è più recente del 2001, perché si basa su una popolazione più ampia e perché tiene conto anche di una cosa che si chiama Secular Trend, che è l'evoluzione nella crescita degli individui legata al miglioramento delle condizioni generali di benessere, al benessere acquisito, alle modifiche nell'alimentazione, tutti elementi che comunque hanno un'incidenza sulla maturazione degli individui, perché è un dato di esperienza di ciascuno che gli adolescenti di adesso certamente maturano da un punto di vista fisico molto prima di quelli di vent'anni fa o trent'anni fa. Lo scopo originario di questi test, peraltro, era molto diverso e aveva un meccanismo logico opposto, se vogliamo, perché si partiva da persone che avevano un'età anagrafica certa per capire se c'erano dei problemi nella crescita di quelle stesse persone. Invece qui dobbiamo partire dal fatto che non conosciamo l'età anagrafica, dobbiamo verificare quella che è l'età anagrafica e dall'età biologica dobbiamo cercare di capire quanti anni hanno. Quindi sulla valutazione e sull'esito di questi metodi influiscono diversi elementi di variabilità. Il primo è la variabilità biologica che si calcola in più o meno due anni rispetto alla media, cioè presi un certo numero di ragazzi della stessa nazionalità, della stessa provenienza, della stessa età, avremo tra quei ragazzi comunque una variabilità di più o meno due anni che è legata a fattori individuali. A questo si aggiunge una cosa che si chiama distorsione sistemica, cioè cosa succede quando prendiamo in considerazione ragazzi che hanno delle origini diverse rispetto a quelli del campione considerato, dei termini di paragone considerato, di cui sappiamo invece molto poco e di cui non abbiamo dei termini di raffronto perché non abbiamo delle tabelle provenienti da paesi dell'Asia o da paesi dell'Africa, non sono state ancora elaborate e quindi l'indice di queste differenze sull'esito degli accertamenti è fondamentalmente ignoto. E un ulteriore elemento di variabilità è dato da un ulteriore più o meno sei mesi legato all'imprecisione dovuta alla lettura della stessa lastra da parte di specialisti diversi che possono nell'interpretazione dare un esito differente a seconda della lettura che ne danno. Tutto questo fa sì che possiamo arrivare tranquillamente a dire che non è certo nulla, bisogna confrontare quell'esame eventualmente con altri per avere dei riferimenti un po' più precisi. Questo è il motivo per cui il metodo multidisciplinare è stato molto raccomandato dal patocollo scone ma anche a livello internazionale, quello che dovrebbe essere maggiormente impiegato, soprattutto laddove l'esame osseo dia come risultato una maturazione ossea completa. La maturazione ossea completa vuol dire che la persona ha 18 anni? No. La maturazione ossea completa è compatibile anche con la minore età del soggetto interessato. Quindi, se vogliamo avere dei riferimenti più precisi, dovrebbero essere impiegati gli ulteriori sistemi, interiore accertamenti medici come può essere la valutazione di caratteri antropometrici, eventualmente anche quella dei caratteri sessuali, ma anche il colloquio individuale per verificare la maturazione emotiva, affettiva della persona. Nessuno da esiti, tutti hanno i loro difetti ma più se ne mettono insieme più il risultato può essere affidabile. Nel caso in cui invece l'accertamento della maturità scheletrica ossea fosse compatibile con la minore età, ecco che qualunque accertamento ulteriore si renderebbe superfluo, perché in ogni caso qualunque esame, qualunque test successivo non riuscirebbe a superare il dubbio insito nel primo. Di qui il ritorno all'articolo 8 del DPR 448 dell'88 che ci dice che qualora in caso di perizia permanga il dubbio sulla minorità, la persona va considerata a tutti gli effetti come minore. Grazie.